Perché tu lo saprai bene, chi lavora, qua diciamo la verità, chi lavora col proprio corpo, chi lavora con la sua immagine ha un problema, c'è un problema di non ti vedi più. E quindi avevo dei momenti in cui ero molto giù, perché vedi il tuo corpo cambiare tanto. È stata più dura secondo me proprio perché facciamo questo lavoro, questo lavoro che in gran parte è basato anche su quello. Per cui la parte estetica sì, è stata difficile da superare, ma non impossibile chiaramente, perché poi subentra il fatto di vedere questa bambina che cresce, che è sana, che tra poco arriva, tutte queste cose fanno passare in secondo piano il fattore estetico. Io ho avuto degli altri problemi, ovvero magari i dolori, la schiena, ho avuto il colpo della strega.